Buongiorno, è in diretta con il prefetto di Pescara, Giancarlo di Vincenzo. Prefetto, anche noi stamane abbiamo girato un pochino la città per questa prima giornata di zona rossa che tra l'altro segue la zona arancione e abbiamo sostanzialmente visto che i controlli ci sono e le persone sono anche piuttosto ligi. Lei conferma questa impressione? Sì, sì, confermo. Abbiamo attivato un piano di controllo sia in città sia in provincia ma comunque registriamo in linea con la tendenza già manifestata negli ultimi giorni una maggiore aderenza da parte dei cittadini al rispetto delle misure anti-Covid. Ecco, lei già ieri e nei giorni scorsi ha tenuto a sottolineare come comunque i controlli ricordiamo Forza dell'Ordine su strada, Polizia Municipale ovviamente in tutta la provincia ma più che i controlli lei confida molto nel senso di autoregolamentazione di ciascuno. Sì, dobbiamo superare secondo me la contrapposizione contro il lato controllore e dobbiamo invece avere consapevolezza che le nostre azioni oltre che sulla salute di uno di noi possono avere ripercussioni su tutti gli altri sulla nostra comunità e sulle stesse attività economiche. Quindi è il senso di comunità che deve prevalere in questo caso la coesione sociale deve far sì che ognuno di noi si comporti in maniera responsabile. Un'ultima cosa, Prefetto, il tema delle autocertificazioni. Rapidamente come stanno le cose? Ma ognuno deve, è fortemente raccomandato che ognuno porti con sé l'autocertificazione in modo da semplificare i controlli delle parti delle forze dell'Ordine altrimenti si corre il rischio di essere bloccati per un tempo maggiore. Vi dico anche solo che autocertificazione sì ma la verità soprattutto se c'è scritto che si va in un posto, in quel posto si deve andare al supermercato o dovunque sia senza barare, senza mentire altrimenti scattano le sanzioni. E dalla Prefettura di Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.